Il momento più bello che ho vissuto in questo viaggio è stato sicuramente il passaggio di Capo Orna. Io fin da piccolo lengo romanzi e libri di mare che parlano di questo passaggio mitico, del passaggio del Sud America, delle condizioni veramente dure in quel punto. Ci troviamo a 55 gradi circa di latitudine sud, le temperature sono molto rigide e la piattaforma continentale si alza e le onde possono diventare dei veri palazzi. Io ho avuto la fortuna di passare molto vicino al Capo, di essere contattato dal guardiano del Faro che mi ha riconosciuto, sapeva del mio passaggio, quindi è stata un'emozione forte, erano mesi che non parlavo con delle persone e poi ho avuto anche la fortuna di essere fotografato proprio dal Faro e quindi è un ricordo che mi porterò per tutta la vita.